Perfetto ragazzi, dopo aver visto cosa serve per accendere una lampada scarica, per cui ballast o accenditore più rettore, fondamentali per l'accensione, vediamo appunto le lampade scarica. Nelle lampade scarica rientrano una vasta tipologia di lampade, ma cambierà solamente poi la potenza della lampada stessa. Analizziamo subito la prima. Bene, si tratta di una lampada, io le chiamo anche uova di Pasqua, perché hanno appunto la forma ovale bianca che ricorda appunto le uova. Io queste qua le chiamo uova di Pasqua, ok? Bene, allora questa qua è una lampada appunto ai vapori miscelati di mercurio, o come nome identificativo HQL, così si chiamano. Ok, questo è il loro nome di solito, della Oserman, tra l'altro ottima marca, perfetto, sono tra le migliori marca, Philips, Oserman, Oserman, e non riesco a dirlo. Bene, allora queste lampade qui, ok, ai vapori appunto di mercurio, si differenziano dalle altre perché hanno già il ballast interno, ok? Una sorta di ballast, ok? Che è dato da quel componente lì, che non è proprio una resistenza, anche vedendola così sembra una resistenza, ma non lo è. Praticamente aumenta con il valore di passaggio di corrente, ok? Allora, e man mano che aumenta la temperatura, perfetto, di quel componente lì, chiamiamola resistenza, automaticamente la resistenza scende e fa passare più corrente, ok? Regolando automaticamente la flusso di corrente. Allora, queste lampade qui, se possiamo appunto vedere internamente, hanno un bulbo, ok? Che è un vetro termico minerale al quarzo, per la precisione, ok? Come tutte le altre lampade scariche, contenente tre tipi di gas fondamentali. L'argon, lo xeno e il cripto più lo iodio, ok? E sono sempre chiamate lampade ai vapori di, sì, non ai vapori di mercurio, sì, agli allogenuri metallici, perché fa sempre parte, anche se uno pensa che sia una lampada diversa, fa sempre parte della tipologia lampade a scarica, perfetto, come abbiamo detto prima. E anche queste sono agli allogenuri metallici, ok? Allora, questa lampadina qua, possiamo vedere che all'interno, sulle pareti interne, è depositata una polvere di mercurio reattiva, ok? Infatti, noi appena accenderemo questa lampada qua, vediamo subito la sua tipica colorazione, ok? Perfetto, della lampada, sul rosso. Questo è dato appunto dallo spettro, ok? Della ionizzazione appunto interna del gas, che poi si riflette automaticamente sulla superficie, sulla polvere reattiva, biancaltra. Questa qui è polvere reattiva appunto di mercurio, e il che non fa bene, ok? Ecco perché poi sono state bandite, eccetera, eccetera. Inizialmente ha una colorazione, o meglio uno spettro violaceo rossastro, che poi man mano che si scalda, si chiama, il bulbo all'interno, appunto, il gas ionizzato, inizia a diventare sempre più luminoso. E fa la tipica colorazione azzurrognola, a cecante, biancastra, ok? Che poi viene filtrata appunto dalla nostra polvere reattiva. Cambiano automaticamente la tonalità luminosa, o meglio lo spettro gradazione Kelvin. Bene, queste lampade qui hanno il passo E27, decisamente molto più comodo. Però ci si può confondere attaccandola direttamente alla rete, come una normale lampadina. In quel caso lì va fuori uso la lampadina perché fa una luce abbagliante, diventa bollente e rischia anche di scoppiare. Mentre invece hanno sempre bisogno del ballast esterno. Sì, non del ballast, del ratore, ogni tanto mi sbaglio, del ratore esterno. Basta, questa poi serve solamente al ratore, ok? Perché il ballast è già contenuto internamente, ok? Bene. È facile confondersi con queste lampade qui. Ma adesso analizziamo invece la seconda, che avevamo appunto già visto. O meglio la lampada al sodio. Eccola qua, la nostra lampada al sodio. Questo qua che abbiamo sott'occhio è un modello da 150 W, perfetto, della Philips. Bene, possiamo vedere che sono appunto costituite da un bulbo di vetro, anche questo al quarzo, sono tutti i bulbi di vetro al quarzo. E all'interno c'è un'altra colonnina, perfetto, quella là, che contiene appunto i vapori di sodio. Stesso principio anche qua. L'arco voltaico, innescato tra i due elettrodi, attraversa il gas riscaldandolo sempre di più. Portandolo a fusione e portandolo poi al punto di evaporazione. E automaticamente i vapori di sodio, una volta evaporati, praticamente si accendono per la forte temperatura interna, ok? Appunto, e poi iniziano a vaporizzare. Vabbè. Emanando quindi la tipica colorazione giallo-paglierino delle lampade al sodio. Sono lampade monocromatiche, ok? Non sono per niente adatte per l'illuminazione normale, tipo torcia, per far luce normalmente, perfetto. Ma, insomma, perché con queste lampade qui noi purtroppo non distinguiamo i colori, non sono adatte. Van bene però per l'illuminazione stradale, dove non c'è bisogno appunto di distinguere i colori. Per cui appunto passano le macchine e basta. Ecco, semplicemente. Bene. E sono lampade comunque, tra virgolette, diciamo, a basso consumo, ok? Perfetto. Quindi ho queste caratteristiche, la rendono ideale. E poi lo spettro di queste lampade qua è monobanda. Non è arricchito di altre bande. Perché queste lampade qui, questa tipologia qui che stiamo vedendo, è a bassa pressione. Socks. Ogni tanto poi mi sbaglio. Perfetto. Adesso passiamo a un'altra lampada ancora, ok? E' sempre al sodio. Però questa qui cambia la potenza in questo caso, perché è nella 250 W. Come possiamo vedere. Filis, la marca, non ce ne frega niente. E la colonina interna, che tra l'altro hanno detto che sono colonine agli ossido di mercurio, più, e nel frattempo passa anche l'altra lampada, grazie, benvenuta. All'ossido di mercurio più l'altro elemento che non mi ricordo mai cosa è. Dovevi andare a vedere, ok? I filamenti che portano chiaramente la corrente, eccetera, eccetera. La colonina è più lunga ed ha un diametro maggiore. Di conseguenza la potenza cambia e sale. Saliamo in potenza. E adesso la terza lampada, che appunto ha gli ioduri metallici. Perfetto. Eccola qua. Qui abbiamo sempre la solita ampolla. Perfetto. Contenente i gas, che sono sempre gli stessi, se ne sbaglio, ok? Vapori e gli oduri metallici, o allogenuri metallici, che però hanno questo problema qua. Soprattutto queste. Hanno un tempo d'accensione molto lungo, ok? Riescono, o meglio, si accendono approssitivamente circa in dieci minuti. Hanno bisogno almeno di dieci minuti, a seconda poi dalle dimensioni del bulbo e quindi della potenza della lampada. Perfetto. Per accendersi completamente. Quindi, raggiunge lo stadio massimo di luminosità, ok? Ecco, un po' questa la noia. E poi, come tutte le lampade agli ioduri metallici, una volta spente, essendo molto calde, io, se le riaccendo, non si riaccendono. Bisogna aspettare che si raffreddano. E quindi sono richiesti tempi molto lunghi per il raffreddamento. Perfetto. Bene. Facciamo una veloce panoramica. Perfetto. Ecco, queste lampadine qui sono... Questa qui è lunga all'incirca quasi 20 centimetri. Anzi, di più di 20 centimetri, se non sbaglio. Sì, sì, qualcosa del genere. Bene. Ok, perfetto. Bene. Spero di aver dato qualche delucidazione in più per le persone, appunto, interessate alle lampade, alla bellissima famiglia delle lampade a scarica, ok? Ora sappiamo come utilizzarle, sappiamo come collegarle e sappiamo le loro caratteristiche. Bene. Allora, ci vediamo nella prossima parte.